Ieri sono uscito in barca e ho messo la ciliegina sulla torta a questa vacanza. Credo sia opinione di tutti e se non è così scrivetemelo nei commenti che le cose che si vedono dal mare parlando di natura sono incredibili. Qui per esempio siamo arrivati a Mortorio e non poteva mancare la battuta. Oh raga, qui il posto è bellissimo eh, solo che un po' mortò. E poi tuffettino ignorante a concludere questa vacanza, a mettere la ciliegina sulla torta su questa vacanza in Sardegna che mi ha fatto vedere come tutte le volte una natura incredibile, un posto meraviglioso. Ah, altra opinione di tutti è che il sole stanca eh.